buongiorno scusa mi servivano tassello occhiello però abbastanza consistenti tipo il perno no il tassello del perno deve essere almeno otto chiuso perforati non tanto il perno è aperto ma non c'è tipo tassello tipo per il legno io ci metto tassello come un tassello comune tipo caffettatura chiede l'acqua e richieste dopo rossi però